Roma ha voluto proporre un percorso che in qualche modo fa riassaporare il gusto di camminare nella propria città e quindi partendo da una villa storica molto bella che è Villada sulla via Salaria si attraversa un quartiere particolarmente emozionante dal punto di vista architettonico si arriva a Villa Torlonia che ha molta storia da raccontare dopodiché da Villa Torlonia ci si avvicina al centro storico ci si trova nel Roseto Comunale il Roseto Comunale di Roma è uno dei luoghi più affascinanti che ci siano a Roma perché ogni anno tra maggio e giugno fioriscono circa 500 tipi diversi di rose e dal Roseto si riesce a scendere nel rione Testaccio e assaggiare una delle street food più innovative che ci siano in questo momento a Roma che è il Trapizzino